Fondo Barca, comune di Roccatinetto, qui c'è un paese, un paese anche se siamo nella periferia di Roccatinetto, siamo nelle campagne di Roccatinetto, quelle produttive, quelle che producono la ricchezza di questo territorio, perché questa è una valle dove si produce di tutto, questo è un canale di irrigazione, di proprietà del Consorzio di Bonifica. Guardate un po' quello che sta succedendo negli anni, non viene pulito da una parte e dall'altra e il canale si sta restringendo, ma qual è il problema? Se si restringe arriva meno acqua, non è questo il problema, ogni volta che piove, un pochino più abbondante, una goccia d'acqua in più, il volume sale e allaga tutto, la gente qui deve scappare via, siete costretti a scappare via. Purtroppo sì, questa è una crude realtà che purtroppo siamo a grosso modo da cinque anni perché le intemperie sono aumentate e i canali non vengono puliti e poi purtroppo c'è gente che deve evacuare come abbiamo fatto questo inverno passato, cinque volte siamo dovuti andare via. Adesso la situazione è anche peggiorata perché al vecchio si è raggiunto il nuovo. Purtroppo avete ragione, questo è il nostro stato d'animo perché il Cavallino in passato è stato sempre sottovalutato. Perché l'ha chiamato Cavallino? Il torrente si chiama Cavallino? Perché prende il nome di Cavallino e raccoglie tutte le acque della bassa Valle Neto ed è molto grande, da Belvedere Spinello, da Belvedere, Polligrone, fino alla Foce, poi non parliamo di Polligrone, abbiamo un problema serio, per esempio un pontile come segnalavo poc'anzi, sono 60 anni che tutti quanti fanno finta di non vederlo perché adesso le intemperie sono quelle che sono. Arriva tutto questo flusso d'acqua, tappa completamente il flusso e c'è un signore che purtroppo ogni anno subisce dei danni, addirittura quest'inverno e ci sono anche delle immagini prese da noi amatoriali che è andato via a nuoto e nell'acqua arriva nelle case. Abbondantemente, purtroppo e noi dobbiamo scappare. E allora vi siete costituiti in comitato, avete costituito un comitato e avete fatto anche un esposto, eccolo qui, alla Procura della Repubblica l'8 di agosto scorso è stato denunciato il Consorzio di Bonifica, eccolo qui l'esposto, siete andati in prefettura, ma risultati? Ancora nulli, quindi niente. Adesso avete paura? È chiaro perché non possiamo stare sempre sull'alto lacchi che va là quando piove, perché purtroppo ripetiamo sempre le stesse cose, le intemperie sono aumentate, sono in maniera eccessiva, però che ci sia un degrado e questo si può verificare con le vostre immagini, questo non lo dico io, sono tutti cittadini di Contratafondo Barchi. Quante persone abitate? Grosso modo tutto il tragitto, siamo sulle 780 persone, c'è un piccolo centro abitato, purtroppo è così. Un piccolo centro abitato che chiede di essere messi in sicurezza, noi vogliamo essere sicuri di non morire. Purtroppo è questo il nocciolo, nessuno ci ascolta, anche il 2011 se qualcuno ha notato e ha visto un'intervista, siamo dovuti essere costretti a chiamare di nuovo la televisione, a manifestare perché c'era un pezzo che erano 20 anni che non si puliva, non lo dico io, sono i fatti. Adesso da quanto tempo non si pulisce? Ma siamo a un paio d'anni, perché poi è stato pulito un po' alla sonfrosò, diceva la buona madre di mia mamma. San Pasan, dai. Purtroppo non è stato mai pulito in maniera seria. I piccoli che raccolgono per esempio da Scillopio arriva una valanga. Noi quest'estate siamo dovuti costretti a fare un muro di cinta che era dal 1985 che non si verificava che nelle nostre abitazioni entrava 50 centimetri di acqua. Purtroppo non lo sappiamo a che rivolgere, a quale santo votarsi. Esattamente. Grazie.